Ben ritrovati da Simone Nardone, un nuovo appuntamento con l'informazione locale. Furto sventato e danni di un esercizio commerciale di scauri a Minturno da parte dei carabinieri di Formia nella notte tra martedì e mercoledì. Tre ignoti infatti stavano tentando di smantellare un'inferriata legandovi una funea, un'auto rubata. I militari che hanno notato quanto stesse accadendo sono intervenuti costringendo i tre alla fuga lasciando anche il veicolo sul posto. Il mezzo è stato recuperato e consegnato al legittimo proprietario mentre i carabinieri proseguono le indagini per individuare l'identità dei tre colpevoli. Intervento della Polizia di Stato a Gaeta nella tarda mattinata di martedì per sequestrare un impianto di telecomunicazioni ad uso pubblico di una ditta individuale. Questa pare erogasse servizi per sistemi di allarme e connessione internet per alcune centinaia di clienti a seguito anche di una sottoscrizione di un abbonamento. Peccato che il tutto fosse illegale compresa l'area in cui questo fosse installato ovvero in una zona di proprietà del demanio pubblico e rientrante in un'area vincolata per ambito storico-artistico. Per di più l'impianto era abusivamente collegato ad un traliccio del gestore telefonico TIM per quanto concerne l'alimentazione elettrica. Il tutto è stato sottoposto a sequestro e il titolare denunciato. Nella giornata di ieri a Monte San Biagio i carabinieri del NIPAF, ovvero il Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale, Agroalimentare e Forestale del gruppo della provincia di Latina, sono intervenuti per scovare un abuso edilizio ed ambientale. Per la precisione, secondo quanto riportato dai militari, questi hanno denunciato a piede libero un uomo di 50 anni del posto per aver violato i sigilli di una struttura edilizia già sottoposta a sequestro in quanto abusiva e per aver continuato anche al proprio interno dei lavori. Covid-19, solo quattro i positivi nella giornata di martedì 22 giugno, uno a Cisterna, uno a Latina, uno a Sezze, uno a Terracina, zero i decessi. Nel bollettino di ieri solo un paziente ha necessitato di cure ospedaliere con il ricovero, record di guariti oltre 250 in sole 24 ore, quasi 5.000 i vaccini somministrati. Aveva fatto notizia nei giorni scorsi la morte dell'uomo di Terracina, di 74 anni, morto dopo la seconda dose del vaccino BioNTech-Pfizer. Ieri si è svolta l'autopsia sul corpo dell'uomo a seguito della richiesta dei familiari che hanno detto di volerci vedere chiaro. A seguito di quanto riportato anche da altri media, sembrerebbe non essere emersa nessuna possibile evidente correlazione tra la somministrazione del siero anti-covid e il decesso del paziente che, secondo quanto riportato dai familiari dell'uomo, non aveva nessuna patologia pregressa. Ovviamente sono stati prelevati molti campioni per approfondire la cosa, ci vorranno settimane adesso per poterne sapere di più. Grande attesa come tutti gli anni per la festa di San Giovanni a Formia. Quest'anno la messa di domani, giovedì 24 giugno, verrà celebrata dall'arcivescovo di Gaeta Luigi Vari e sarà trasmessa in diretta. A partire dalle 9.30, infatti, sarà possibile seguirla su Facebook, sulle pagine dell'Arcidiocesi di Gaeta, di Radio Civita in Blu, della Proloco Formia e della stessa parrocchia dei Santi Lorenzo e Giovanni Battista. Questa era la nostra ultima news. Prima di salutarci vi ricordiamo che sul nostro sito web radiocivitainblue.it trovate tante altre news. Un saluto da Simone Nardone e a risentirci alla prossima edizione del Giornale Radio.